Defiscalizzazione e massima semplificazione della burocrazia tra le priorità dell'Associazione Imprese del Sud, che ha aperto una sede regionale anche in Basilicata. Il movimento, presentato nel corso di una conferenza stampa nella sede della provincia di Potenza, vuole, come ha evidenziato il presidente nazionale Sergio Passariello, partecipare in maniera attiva ai processi decisionali e combattere le proprie battaglie in Europa, dando un nuovo impulso e maggiore sostegno alle attività imprenditoriali, in particolare del Mezzogiorno d'Italia. Prevista a settembre, se non ci saranno positive noità, una manifestazione per accendere i riflettori sui drammi vissuti oggi dalle aziende. Il presidente regionale di Imprese del Sud, Antonino Pidatella, ed il consigliere provinciale nonché promotore dell'apertura in Basilicata di una sede dell'Associazione, Aurelio Pace, hanno evidenziato, come anche sul territorio lucano, serva un cambio di rotta per sostenere gli imprenditori alle prese, tra l'altro con le salate cartelle sattoriali di Equitalia e di difficili rapporti con le banche, che, ha evidenziato Pidatella, operano a volte peggio degli usurai. Il consigliere Pace ha poi proposto l'avvio di una serie di conferenze sul territorio della provincia per chiamare gli imprenditori a confrontarsi su temi quali infrastrutture, merito ed energia. Grazie a tutti.